Cosa ci legge Tonino? Io vi volevo prima ringraziare perché se mi avete richiesto qua in questa bellissima casa si vede che siamo dei grandi amici, degli ottimi amici. Mi commuove Tonino. E ho un debito con Meris io. Sì? Quindi gli ho dedicato una Zirudella. Ah sì? A Meris. E' intitolata... È vero, l'anno scorso quando ha avuto l'incidente mi ha dato la Zirudella, io non c'era. Benissimo. Grazie. Sentiamola. Se avete paragonato a una macchina qui, a fareb sicuro barato, ma una Rolls-Royce avrebbe piatto. Bella, comoda, fana, adolosa, da invintesse tu ne fosse, elegante che si pregede da invigere chi ti ha provvede. Ma ti fareb una grossa offerta, solo per l'amico qui desperta, e predirebbe la mia patente una proposta indecente. Ma ecchina molto fa, ben diversi in realtà, e per tenere più per terra, ha pensato che è una chimera. Quindi, me è contento dell'amicizia che è un successo. Ogni tanto, ha fatto il sogno, e che becchia in cong, avete inteponuto. Non so più quanto è arrivato, la soleria che si vanno. Ma mi è stato talmente contento, che dopo poco, mi è indurmente. Grande, Tonino! Grazie! Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi tutti te, adesso te la ripeto, pubblicità, grazie. Non lo sapesse di predappio questo signore, né del predappio. Tonino, ci regala una zirudela di estrema attualità, di cosa parliamo? Sì, perché non si fa altro che parlare di bunga bunga. Eccoci, benissimo. Allora io ho fatto la zirudela. E noi l'ascoltiamo. E bunga bunga. Qui è una moda incontra il signore, qui più vece rimbambi dur, ad fare un balco come la rumba, che gli chiamano bunga bunga. O concesso che d'altra doni, quasi nudi e non caboni, e se gli estresa un po' tutto questo, senza fare una città. Perché l'home, quando qua in cal, l'ala cresta come un gal, una bocca di leon, e il raggiungo come un gappone. L'è perché questo ragazzo è tutto soddisfatto, perché ci sono perfetto, che gli fa il signore come i vip. Chi passa milioni di euro, è lì stato tutto in ferie, e la tesa della cameda, per fare una bella xereda. Questo è il nuovo divertimento, importante del Medio Oriente, e ci sono sempre più perplexi, e bunga bunga, e fa un mixetto. E ci sono diversi guardanti, con le quelle spinzolone. e in tal giacchi, con chi snur, e fa cretto sempre due. Grazie Tonino. Grazie a voi. Qualcosa l'ho capito stavolta. E vorrei raccontare, con questa zirudella, del contadino anziano, che dopo due o tre anni, riesce a dare la patente, e incuriosito, si vuole infilare nell'autostrada. Quando arriva, vede un grande cartello, all'asso in alto, che c'è scritto, Telepash, ma lui non legge Telepash, lui legge TET Pash, capito? E qui comincia la zirudella. Incoriosi, a me soffermi, all'ingresso dell'autostrada. Do qui era un gran cartellaz, che ogeva, TET Pash. E arriva tutti i parenti, che doveva soltare, e la sbarra che la salseva, e poi brum che la sbaceva. Memmi so detto, porca putina, a que vede un'aica problema, un po' esche che i pagadur, e si è tutto in vornidur. E ho avuto la bella chitarra, a vede per me, alzèche la sbarra. E le le cuone belle, e che cocle un bel uggel. A xorma sta le blocè, e a inviè tutta xunè, perché ho sei redrei da me, fatta una coda da fespecchè. La riveca gelante, arrenneca, sognorante, che senza paz, non si può passer, che l'am passaggio privilegiato. E me ha detto, se ho dici, te te paz, dimmi perché è me l'ora di paz, se avli, se pepe con la zanta, e fa passer su l'importante. Tè le paz, caro signore, tè le paz con un visore, che è captato, e lui non esgarra, fa alzare sempre le esbarra. Occe crea una confusione, e difende buonier in ciò, ma, che s'era difensore, desgraccia que le pagador, e mi ha fatto subito passer, e per là, a sor scappare, solo perché piantei i nas, dei cartelli, dei telepasti. E' intitolata, l'impis, mi piace o no? Ascolta Monica, mi piace o no? Vai Tonino. E non so mai io capisco. Come è l'idea, un pis al doni, e per un posto, tutti quelli buoni, un pis la bionda, tipo da folla, e la morra romagnola, un pis percola naturale, la pancetta e poi guancella, un pis al tette, un pis al cosci, l'impis tanto con il suo moce, un pis da metter su col tonco, un fa sentire mei di mondo, un pis di grecia con la castigna, clava forte qui in Romagna, e a so sincero, a so un chien, che lui pisa di mania bene. M'ho chavlant, per lei della donna, a so una di bocca bona. Un pis maniera che vi, un pis piore che vorrei, e per di che io maniera, alla fine dolce caffè. Mi ha critto da s'estecchere, tutta il doni al volo nel terra, e per piaceli a esso posto, mi li metto a esprim posto. Come pregi, qualità, al più volte hai ragione, e poi ti fa un bel sorris, ce la vuoi da dire, a me l'impis. Grazie Tonino. Grazie Tonino.